Ehi, ciao! Avete visto che è arrivato il nonno? È arrivato il nonno! Ma davvero? Oh, nonno! Che bello che sei tornato! Ciao! Ciao a tutti! Sono tornato! Eccomi qua! Ma dove eri stato? Ho avuto un'avventura! Che avventura? Racconta, racconta! E insomma, ero in giardino a guardare la primavera. La primavera? Sì, la primavera, perché c'erano gli alberi fioriti. E poi? Che cosa è successo poi? È arrivata una folata di vento e mi è volato il cappello. E allora, io ho fatto per prendere quello e scappava più in là. Io lo rincorrevo e quello scappava più in là. E poi, e poi... E poi, poi finalmente l'ho preso il cappello. E sei tornato a casa? Non è stato così facile tornare a casa. Perché? Perché a forza di correre non avevo guardato la strada e quindi non sapevo più dov'ero. Allora mi sono girato tutto intorno e non sapevo che fare. Se andare avanti, tornare indietro, andare a sinistra, tornare a destra. E allora ero un po' così, non sapevo proprio cosa fare. E poi? Cos'è successo poi? E poi a un certo punto... A un certo punto? Cosa? Cos'è successo nonno a un certo punto? A un certo punto ho visto delle scarpette rosse sulla finestra. Ah, hai visto le mie scarpette? Eh, abbiamo fatto bene a metterle sulla finestra. Veramente sono stata io. Va bene, però ci siamo preoccupati tutti per il nonno. Anch'io! E anch'io! Non fa niente chi li ha messe. Io li ho visti e siete stati tutti molto bravi. E poi sono tornato a casa. E ora sono stanco, mi siedo e il cappello se si toglie sempre questo cappello. Non so cosa fare. Nonno, devi comprarti un altro cappello oppure incollarlo. Ma adesso ci facciamo un bel balletto. Oh, ma io sono così stanco. Non fa niente ballo io per te. Ullalla, 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 questo è il waltzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il waltzer che fa lallalla. Anch'io ballo!